Mister Zattarin, quattro vittorie e quattro partite, cosa vuol dire? Che questo lentigione fa sul serio? Sono contento per i ragazzi, anche perché oggi sicuramente non era facile, dopo due partite giocate in settimana un po' potevamo soffrire anche sotto l'aspetto fisico. Invece i ragazzi sono stati bravi, hanno vinto una partita importante e dobbiamo sicuramente lavorare ancora tanto per migliorarci. Primo tempo avete avuto occasioni e avete sberato un po' la mira, secondo tempo la mira è stata perfetta, soprattutto perfetti due cambi, quando entrano due giocatori e fanno gol vuol dire che l'allenatore l'ha vista bene. No, no, sono stati bravi i ragazzi, io sono contento perché c'è un bel gruppo, un gruppo che sta lavorando bene, questa è la dimostrazione che i cambi sono importanti, i ragazzi che abbiamo quando entrano fanno bene e sono contento sia per Molinaro che per Mametti perché sono due giocatori che veramente ci possono dare una grande mano come ce lo possono dare gli altri che in questo momento stanno giocando un po' meno. Quindi molto equilibrio si è visto, soprattutto nel secondo tempo, siete stati bravissimi a gestire il 2-1 anche se forse in occasione del loro gol c'è stato un po' di rilassatezza? Il loro gol non dovevamo prenderlo, perché la partita era finita quindi dovevamo leggere meglio la situazione, dovevamo essere più smaliziati, però è normale, è un gruppo nuovo, tanti ragazzi che devono migliorare in certi momenti della partita, però soddisfazione, 4 partite e 4 vittorie e dobbiamo vivere la giornata e continuare su questa strada. Insiste sempre lei con il trequartista, continuerà su questa strada, visto che poi nel secondo tempo ha cambiato oppure è una cosa del momento? Ma dipende, dipende dalle situazioni, dipende dai momenti, in questo momento stiamo giocando così perché stiamo facendo bene col trequartista le due punte, però questo non vuol dire che io cambio perché infatti abbiamo cambiato e probabilmente ha dato dei benefici e magari anche a cambiare oltre che qualche ragazzo anche il modulo. Quindi soddisfatto alla fine? Ma sì, sono soddisfatto, sicuramente sì. Grazie, complimenti.